serve Gian Grasso che attacca De Rosa gli va via e mette due punti facili a Canestro nell'angolo per Martinez lo scarico fuori per Opacic il tiro da tre Canestro solo Retina per la Matera il tiro e il Canestro alzando la parabola poi di giocare su Martina Scarpato si alza e altri due punti per Scarpato arriva Patanè riceve Opacic dieci secondi per portare a termine l'azione di Battipaglia attacca Cremona si appoggia alla tabella due punti per Laura Cremona si fa male Patanè deve tornare indietro adesso Giulia Patanè l'Apanato attacca l'Opacic il giro sul perno la palla per la Palmisano tanta difficoltà oggi e qui si addormenta Opacic e qui si addormenta Opacic serve Patanè la palla arriva sotto a Panato due punti palla sotto alla Mattela il tiro è Canestro di Caterina Cremona sotto ancora per Caterina Mattela il l'assist fantastico per Siria Germano attacca il centro lo scarico fuori l'extrapesta per Diotti per Gian Grasso la tripla la tripla di Gian Grasso arriva Laura Cremona due punti facili per lei la palla arriva a Gian Grasso il tiro da tre solo rete per Gian Grasso e nel tentativo di servire De Rosa perde palla battipaglia e ancora la Gian Grasso il tiro è sbagliato il rimbalzo di Mari Panteva ancora per De Feo spinge avanti palla per la De Rosa il tiro è sbagliato il rimbalzo lungo finisce nelle mani di De Feo un grande assist per Siria Giordano intanto si continua a giocare con la Gian Grasso che serve fuori la Diotti il tiro da tre è corto il rimbalzo è sempre in maglia gialla della sette nuovamente per Bosco attacca ancora la Diotto Canelli la Diotti Canestro viene attaccata non smette di difendere ed è giusto così Moncadieri poi coach decide di chiudere qui battipaglia batte Moncadieri 58 a 44 arriva nelle si